Quando John Bell ha visto uno strano animale nei campi vicino a casa sua, non poteva immaginare che da quel momento la sua vita sarebbe cambiata per sempre. Dopo quel singolo avvistamento, lui e la sua famiglia hanno cominciato ad assistere a strani fenomeni inspiegabili, che sono durati decenni. La loro storia terrificante è conosciuta come la strega dei Bell, ed è considerata una delle vicende paranormali più documentate nella storia. Ciao belli de zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E la storia che voglio raccontarvi oggi sembra davvero uscita da un film o un libro horror. Credo non sia molto conosciuta in Italia, il che è davvero strano perché nel corso dei secoli sono stati raccolti tantissimi documenti e testimonianze. Si tratta di una vicenda piuttosto datata, ma io la trovo estremamente interessante oltre che spaventosa. Quindi preparatevi, questa è la storia della strega dei Bell. La leggenda di Bell Witch è piuttosto antica, anzi molto antica. Si ambienta in un'epoca che ormai possiamo solo immaginare leggendo i libri di storia. Percorreremo buona parte di tutto l'Ottocento, iniziando precisamente dal 1804. Giusto per contestualizzare, devo dirvi che ci troviamo nella contea nord-occidentale di Robertson, nel Tennessee. In quegli anni, negli Stati Uniti, stavano accadendo davvero tantissime cose. C'era l'espansione verso Ovest, ovvero il famoso Far West. C'era ancora la schiavitù per le persone nere e ovviamente c'era parecchia ignoranza su qualsiasi ambito. Sulla salute mentale, sulla salute fisica, la medicina non era per niente sviluppata e si credeva facilmente alla stregoneria e a cose di questo tipo. Per cui non c'è da stupirsi se il caso di oggi comincia con degli eventi paranormali o inspiegabili. Ma non è la classica storia di fantasmi, anzi vedrete che ci saranno degli aspetti parecchio strani. È un caso unico nel suo genere, non credo che ce ne siano altri simili. E come ogni storia vecchia ne esistono di varie versioni, molto diverse tra di loro. Più si va avanti col tempo, più i dettagli cambiano e si fanno contorti. Non è facile capire cosa sia vero e cosa non lo sia. Per questo motivo ho cercato le fonti che mi sembravano più certe e meno fantasiose. Passatemi il termine. Quindi comincia tutto nel 1804, quando un uomo benestante di nome John Bell vive tranquillamente nella sua fattoria nella Carolina del Nord. Si trova bene lì, ma vorrebbe ampliare la sua attività. Vorrebbe semplicemente trovare un terreno più grande e arricchirsi un po' di più. In quegli anni non era così complicato comprarsi un nuovo terreno. In sostanza, anzi, se avevi un po' di soldi e andavi a caccia di territori vergini nell'Ovest degli Stati Uniti, avresti addirittura potuto creare un nuovo Stato. Oggi questa cosa è semplicemente impensabile, ma in quell'epoca molte cose erano più facili, tra cui questa. Quindi John Bell decide di trasferirsi ad Ovest, appunto, nel Tennessee settentrionale. Va lì insieme alla sua famiglia, ovvero sua moglie Lucy, e i loro sei figli. Si stabiliscono nella contea di Robertson, un posto davvero molto piccolo, dove ci sono poche famiglie come la sua, e dove tutti cercano di collaborare per creare una vera e propria comunità. Anzi, è meglio dire che tutti lavorano insieme, chi più chi meno, per creare una vera e propria città. John e la sua famiglia si ambientano subito molto bene. Si fanno una buona reputazione, perché sono dei contadini che si sono arricchiti lavorando la terra. Sono grandi lavoratori che non hanno paura di sporcarsi le mani, tutto perfetto, insomma. John e la sua famiglia lavorano nella loro grande fattoria, e mandano avanti la comunità che si stava creando poco a poco. Ma se fosse rimasto tutto tranquillo, non sarei qui a parlarvene. Purtroppo John Bell non ha idea della disgrazia che presto si abbatterà su di loro. L'intera famiglia Bell, comunque, è eccezionale. Sono tutti gentili, cordiali, disponibili e altruisti. John Bell si fa subito tanti amici, e sua moglie Lucy apre le porte a tutti con estrema gentilezza. La casa in cui vivono è molto carina, è fatta di legno e si trova vicino ad un fiume, posto in cui molte persone della comunità si ritrovano a pescare, fare picnic, cose di questo tipo. La famiglia Bell, abitando lì vicino, incontra tanti sconosciuti e nel tempo libero fa nuove amicizie. Quindi in pochissimo tempo i Bell diventano molto popolari nella contea, e tutti si affezionano a loro. Vivono quindi una vita più che dignitosa per i tempi. Addirittura John e Lucy mettono al mondo altri tre figli durante la loro permanenza lì, per un totale di nove figli in tutto. E niente, è tutto perfetto, i piccoli vanno a scuola, i grandi lavorano col padre e la madre, vendono i loro prodotti e lavorano un po' in giro per costruire qualche edificio su commissione. Intanto quindi il tempo passa in questa maniera. Molti dei figli crescono, si sposano, costruiscono altre case e si stabiliscono per conto loro sempre lì vicino. La comunità si allarga e tutti stanno bene. Ma allora perché poi degenera? Cosa succede di così destabilizzante? Ecco purtroppo questo periodo di felicità e stabilità durerà solo 13 anni. Nel 1817 infatti cominciano ad accadere delle cose a dir poco agghiaccianti. E non solo per i Bell, ma per tutta la contea che verrà colpita da una shagura che durerà per quasi un secolo. Nell'estate del 1817, in un giorno come tanti altri, John Bell sta camminando nel suo campo di grano. Ad un certo punto si ferma e rimane impressionato perché si trova davanti una cosa a dir poco strana. Poco distante da lui, nota un grosso cane, diverso dagli altri cani che era solito vedere lì in giro. Era un cane deforme, una sorta di lupo molto inquietante, con le zampe tutte storte, malformate, e gli fa davvero impressione perché questa bestia comincia a fissarlo intensamente, senza staccargli gli occhi di dosso. Gli sembra sia uscito direttamente dall'inferno, una bestia che gli provoca ribrezzo, ma anche paura. E questo nonostante fosse un uomo molto coraggioso e che non si spaventava facilmente. Ma la vista di quell'animale fa scattare qualcosa in lui, un brivido di paura che non aveva mai provato prima. Così prende il suo fucile, lo punta in direzione di questo essere e fa fuoco. In teoria lo colpisce, o almeno avrebbe dovuto colpirlo, ma come se niente fosse l'animale si alza e scappa. John allora, sicuro di averlo colpito, rimane un attimo confuso. Si avvicina al punto in cui era seduto il cane, ma non trova impronte, non trova nessun segno del fatto che fosse lì. Essendo un animale davvero grande, si immaginava di trovare del grano spezzato, delle impronte, qualcosa lì in mezzo al campo. Ma niente. Non c'è nulla, non ci sono neanche le impronte di quando è scappato via verso il bosco. È come se non ci fosse mai stato niente lì. Però John era sicuro di averlo visto, non poteva essere solo la sua immaginazione. Per cui nulla. Scrolla le spalle, se ne fa una ragione e torna a casa. Pensa di aver avuto una sorta di allucinazione o qualcosa del genere, ma questo è solo un inizio perché non molto tempo dopo comincia ad accadere qualcosa di ancora più disturbante. Una notte, in casa Belle, i membri della famiglia cominciano a sentire degli strani rumori, come dei colpi sul pavimento e sulle pareti. Era come se ci fosse qualcuno o qualcosa che stava facendo il giro della casa battendo pugni contro le pareti. Ma quando si alzavano per andare a controllare, questi rumori sparivano. Poi appena tornavano a letto e chiudevano gli occhi, ecco che ricominciavano. La famiglia Belle, come potete immaginare, è infastidita. Pensa che qualcuno stia facendo una sorta di scherzo. Il problema è che questi fenomeni cominciano a ripetersi sempre più spesso. E si fanno sempre più inquietanti man mano che il tempo passa. A questo punto John chiede a sua moglie e ai figli di non dire nulla a nessuno perché vuole che questa faccenda rimanga un segreto fra di loro. Vuole scoprire chi gli sta facendo questi scherzi e vuole risolvere la questione per conto suo. Ma nonostante tutto, John, quasi ogni sera, anche se si tiene pronto e corre appena sente qualcosa, non trova mai nessuno. Non c'è mai nessuno in giro. In casa e nei dintorni ci sono solo loro e la loro fattoria. Tutto ciò comincia ad essere esasperante. Una situazione dir poco inspiegabile e anche irritante che porta la famiglia Belle a vivere sempre di più in un clima di puro terrore. Dopo circa un anno passato in queste condizioni, quindi immaginate non pochissimo tempo, una domenica sera del maggio 1818, i figli di John stanno dormendo beatamente nella loro stanza. Ad un certo punto si svegliano a causa di un rumore, ma non è lo stesso rumore che li aveva attormentati per tutto quel tempo. Adesso sentono come dei ratti che squittiscono e che graffiano in legno. È come se ci fossero dei roditori nella loro stanza vicino a loro. Quando si svegliano disturbati da questi rumori, saltano giù dal letto per controllare, ma appena lo fanno, i suoni spariscono. Controllano nel loro letto, in ogni angolo della stanza, e non solo non trovano questo topo, ma non trovano neanche dei segni di graffi o cose simili. Non c'era assolutamente nulla, il che è decisamente strano. Un po' delusi tornano a letto, ma dopo pochi secondi lo stesso rumore di prima ricomincia e si fa più intenso e insistente. Ora sembra che sia un grosso animale a graffiare, non più un semplice topo. E il rumore è talmente vicino che i figli di John pensano stia rosicchiando e mangiando il legno dei loro letti. Quindi ancora una volta si alzano, poggiano i piedi per terra, fanno un po' di luce e niente, di nuovo silenzio. Per l'ennesima volta controllano in giro e non trovano nulla. Si rimettono a letto e i rumori ricominciano. Non potendo fare nulla si ritrovano costretti a sopportare questo rumore incessante per tutta la notte. E purtroppo questi strani eventi si ripetono anche la notte successiva e quella dopo ancora. E nessuno riesce a capire quale sia la causa, anche perché non ci sono tracce, non c'è nulla. Alla terza notte i figli di John sentono anche un nuovo rumore. E qui le cose si fanno davvero inquietanti. Sentono una voce umana provenire dal pavimento. Per la precisione sentono dei lamenti, dei gemiti che aumentano secondo dopo secondo. Si fanno sempre più intensi, sempre più insistenti. I ragazzi sono sicuri che ci sia qualcuno sotto di loro, qualcuno nelle fondamente della casa che sta graffiando e consumando le pareti per cercare di salire su. Questa volta rimangono davvero terrorizzati. Tuttavia si alzano e decidono di affrontare questa cosa qualunque cosa sia. Ma di nuovo appena mettono i piedi a terra, i lamenti si fermano di colpo. Assurdo. Questi poveri ragazzi sono stufi, hanno paura, vogliono capire che cavolo sta succedendo. Per cui non tornano a letto a dormire, ma svegliano i genitori, John e Lucy, e spiegano loro cos'è successo. Quindi tutta la famiglia si mette all'opera e esplora la casa da cima a fondo, passando ore intere a cercare in ogni angolo, porta, cassetto, finestra, ovunque, ma non trovano niente. Nessun oggetto rotto, nessuna superficie graffiata, nessuna impronta di animale e nessuna persona strana. Assolutamente nulla. Questa situazione per John è assolutamente inaccettabile. E ovviamente è spaventato perché non sa darsi spiegazioni. Se prima credeva che qualche teppista li stesse tutti prendendo in giro, bussando di notte a caso, ora è sicuro che ci sia qualcosa di estremamente inquietante. Lui è un uomo che usa la logica, è un uomo concreto e non crede facilmente a cose paranormali. Ma la sua famiglia evidentemente sì, perché sono tutti terrorizzati e non riescono proprio a dormire. Cominciano a credere di essere vittima di qualche spirito. John però ha paura di raccontare questi fenomeni a qualcuno. Lo conoscono tutti in paese e ha paura di perdere quella stima che era riuscito a costruirsi negli anni. Ha paura di essere deriso, per cui non sa che fare. Decide però di trovare un compromesso. Decide di dirlo a qualcuno, ma solo ad una persona, almeno per il momento. Ovvero ad un vicino di casa che conosce bene, su cui sa di poter contare. Il signor James Johnston. James è una persona discreta, tranquilla e anche molto pratica, esattamente come John. I due si conoscono da anni e James sa che John non è un tipo che inventa delle storie, non di questo tipo almeno. Quindi per fortuna quando John gli racconta degli strani eventi in casa, lui gli crede e anzi gli viene in mente un'idea per capire insieme come risolvere la situazione. James si offre volontario per dormire in casa dei Bell solo per una notte, così da provare o smentire questi strani fenomeni. Da lì in poi avrebbero capito come comportarsi. John quindi accetta e James passa la notte lì con loro. Una scelta di cui si pentirà molto presto. In quella notte James sente tutti i rumori di cui vi ho parlato prima, dal bussare sulle pareti fino alla voce urlante dal pavimento. E rimane talmente tanto terrorizzato che scappa da quella casa in piena notte per tornare a casa sua. Il giorno dopo inevitabilmente tutta la contea nord-occidentale di Roberson sa cosa è successo. James l'ha raccontato a tutti, meno male che era un tizio di cui ci si poteva fidare. Comunque cominciano a circolare voci sul fatto che la fattoria dei Bell si è infestata. E molti ovviamente cominciano a preoccuparsi, ma avviene una cosa del tutto inaspettata. Io mi immaginavo che la comunità sarebbe diventata ostile, o che avrebbe pensato di dover cacciare i Bell per paura degli spiriti o cose così. Invece no. Sorprendentemente molti cittadini si dimostrano gentili e altruisti. E aiutano la famiglia Bell in tutti i modi che sono disponibili a loro. John si rincuora per tutta questa generosità, anche perché se vi ricordate non si osava a parlarne con nessuno perché pensava l'avrebbero preso un po' per pazzo. Invece si rivelano tutti super gentili, disponibili e ovviamente anche spaventati. Ma vogliono dare una mano, vogliono vedere cosa si può fare per risolvere questo problema. Allora, a turno, ogni notte qualcuno della Contea comincia a dormire a casa dei Bell, come aveva fatto James. Ma ogni singola notte si ripresentano quei rumori inquietanti. Ogni singola notte. Da un lato è un bene perché così tutti possono rendersi conto della stranezza di questi fenomeni. D'altra parte però, è una cosa molto spaventosa e fastidiosa. Se proviamo a pensarla in maniera logica, si può ipotizzare che si tratti di una sorta di complotto organizzato dall'intera Contea. Cioè che tutti si siano messi d'accordo per raccontare questa storia spaventosa, ma perché avrebbero dovuto farlo? Vabbè, più avanti nel video avremo sicuramente il tempo e il modo di commentare tutto ciò che è successo. Intanto la faccenda è molto chiara. La fattoria dei Bell sembra infestata. Tutti lo sanno, ma nessuno sa come risolvere la situazione. Tra le voci che cominciano a circolare ci sono delle teorie neanche troppo improbabili. I cittadini e la stessa famiglia Bell ipotizzano che ci sia la mano di qualcuno della comunità che per qualche motivo li odiava e voleva distruggerli, spaventarli in qualche modo. La teoria più diffusa è quella che riguarda un presunto ventriloquo. Pensavano che tra gli abitanti della cittadina si nascondesse un ventriloquo che riusciva a fare questi scherzi in qualche modo con la voce, in modo da spaventare tutti. Ma è difficile spiegare tutto con questa teoria, perché al di là della voce rauca e gracchiante dal pavimento, la teoria non spiega gli scricchioli, i graffi sulle pareti e i morsi a bordo del letto. In sostanza i Bell non sanno più che fare. Ogni notte sia loro che gli abitanti controllano la casa più e più volte, ma non c'è mai nessuno da nessuna parte. Pensate che i cittadini arrivano persino a guardare, costantemente, tutti i membri della famiglia Bell mentre dormono, così da vedere se fosse uno di loro a fare tutto ciò. Eppure anche mentre tutti dormivano, i suoni si presentavano ancora, costanti, martellanti, ogni cavolo di notte. In casa Bell ormai non si dorme tranquillamente da anni e nessuno sa darsi una spiegazione, o meglio, per un paio di mesi è stato così. Ma ad un certo punto molti cominciano a sospettare proprio di John, John Bell. O meglio, non è un sospetto vero e proprio, più che altro notano in lui un comportamento sempre più strano, sempre più preoccupante. In pratica, John aveva cominciato da un po' di tempo ad avere dei momenti in cui sembrava essere come uno zombie. Magari mentre parlava con qualcuno, da un momento all'altro capitava che restasse a bocca aperta, con la mascella tremante e gli occhi sbarrati, come se avesse visto un fantasma. E subito dopo, solitamente, tornava in camera sua, si sdraiava nel letto a fissare il vuoto, per ore e ore, senza mangiare né bere. Come potete immaginare, a questo punto i Bell si sentono prigionieri in casa loro, capiscono che sono braccati da qualcosa che non li vuole lì, qualcosa che per qualche motivo vuole dare fastidio. E non importa se l'intera comunità è lì per aiutarli, quella presenza rimane lì a tormentarli, vuole far impazzire tutti. Mentre accade tutto questo, la gente del villaggio continua a farsi sempre più domande, dando vita a diverse teorie. E la stessa famiglia Bell ne pensa a una piuttosto interessante. Ipotizzano che, dietro tutto questo inferno, ci sia una singola persona, una loro vicina di casa, la signora Kate Butts. Questa Kate non godeva di una buona fama, era una di quelle persone sempre scorbutiche, che non hanno avuto una vita felice. Suo marito, per esempio, era diventato invalido, non so in che modo e non so perché, e i suoi tre figli erano tutti morti. Kate, poi, aveva un modo tutto suo di parlare con le persone, tanto che metteva a disagio praticamente chiunque, perché parlava in un modo che non aveva troppo senso, non sembrava molto sveglia e, in generale, era una donna strana. Era come se si sforzasse di saper parlare e di saper interagire, ma era evidente che avesse qualcosa che non andava, come una sorta di blocco emotivo oppure qualche abitudine semplicemente incomprensibile agli altri. Il suo modo di fare attirava comunque la gente, ma per i motivi sbagliati. Infatti veniva spesso presa in giro e chiamata Kate Butts Witch, strega. Quindi nel villaggio cominciano un po' tutti a ironizzare sul fatto che ogni cosa paranormale fosse colpa sua. Ma i Bell pensano, e se non fosse uno scherzo? Se ci fosse davvero lei dietro questi fenomeni? Con il passare del tempo, sempre più persone cominciano a crederlo veramente. Alcuni degli abitanti del villaggio cominciano anche a dirglielo in faccia, ma lei non sta zitta a subire, si difende e nega ogni cosa. Dice che non c'entra nulla con i Bell, ma il tempo passa. E nel settembre 1820, questi eventi inquietanti non hanno ancora cessato di tormentare la famiglia. Ormai sembrano essersi abituati, e sinceramente non so perché siano rimasti lì. Si erano anche già trasferiti, quindi... boh. Anche perché la situazione non era migliorata. Ok, si erano praticamente abituati, ma John, il padre, aveva continuato a peggiorare. A causa di questi momenti di trans, possiamo dire così, era cambiato drasticamente. Non era più lo stesso uomo di una volta, è come se lentamente si stesse spegnendo. È una situazione molto strana e difficile da spiegare. John stesso ha difficoltà a dire cosa lo spinge a fissare il vuoto per così tanto tempo. Su una cosa però è certo, crede che qualcuno lo stia torturando psicologicamente. Crede che qualcuno gli stia facendo del male, ma in un modo che non riesce a capire. E un po' passivamente sta cominciando ad accettare questa cosa, perché è già da anni che la sua casa è infestata e che lui non è più se stesso. Anche sua moglie Lucy non sa proprio cosa dire e cosa fare. Molto presto però succederà qualcosa che lascerà tutti davvero senza parole. Qualcosa che si sarebbero ricordati per tutto il resto delle loro vite. In questo periodo, in un giorno come tanti, una delle figlie dei Bell si trova nel pollaio della fattoria per raccogliere le uova. È completamente da sola, sente i suoi stessi passi nel silenzio di quella mattina tranquilla, ma all'improvviso comincia a sentire altri passi, molto vicini a lei. Quindi si gira e poco distante vede una signora un po' anziana, completamente vestita di nero, con la testa in giù, abbassata, che si stava dirigendo verso la parte opposta al pollaio, ovvero dentro casa, la casa dei Bell. La ragazza tuttavia non si fa troppe domande, perché era da anni che la casa era piena di estranei che le aiutavano, per cui lascia perdere la signora, raccoglie le uova, esce dal pollaio e fa per tornare verso casa. Ma durante il tragitto si accorge che quella signora vestita di nero era ancora lì e avanzava molto lentamente. Così si avvicina un po' e capisce dal vestito che si trattava di una signora della zona, per cui la saluta come avrebbe fatto con un qualsiasi abitante della contea, ma lei non risponde. Allora la ragazza avanza ulteriormente verso di lei, cercando di attirare la sua attenzione, ma questa signora non fa assolutamente nulla. Ad un certo punto, quando le due ormai sono a distanza ravvicinata, la signora finalmente si ferma e si toglie la cuffia dalla testa. La fa cadere a terra e comincia a passarsi la mano tra i suoi lunghi capelli. È come se si stesse pettinando con le mani. E la figlia di Belle, vedendo questa scena, non ha idea di che cosa fare. Sempre più incuriosita, si avvicina ancora. Ma ad ogni passo, la signora comincia a grattarsi i capelli sempre più velocemente, quasi come se si stesse graffiando, e comincia a farlo talmente tanto veloce che sembra una cosa disumana. Con orrore, la figlia di Belle si rende conto che la signora si stava letteralmente strappando ciuffi di capelli ad una velocità spaventosa. Non sa cosa voglia dire tutto ciò, ma è terrorizzata. Così, senza neanche guardarla in faccia, fa un giro largo per evitarla, e rientra in casa sbattendo la porta alle sue spalle. Poi chiama subito le sue sorelle e spiega loro quello che aveva appena visto. Così vanno tutte alla finestra e guardano fuori. E finalmente, riescono ad avere un contatto visivo con questa strana donna. Ma nello stesso momento in cui la guardano, lei si ferma, si toglie lentamente le mani dalla testa, e comincia a fissarle. Le fissa in maniera penetrante, inquietante, con uno sguardo che le ragazze non avevano mai visto in tutta la loro vita. Poi comincia a camminare lungo il perimetro della casa, e a un certo punto scavalca la recinzione dei Belle, entrando in una zona della proprietà in cui c'erano degli alberi. Dal nulla, dietro di lei, appaiono tre bambini piccoli che cominciano a seguirla, e poco dopo sia lei che i tre bambini si arrampicano in tre alberi vicino a loro, e rimangono lì per qualche secondo a fissare la casa dei Belle da sopra l'albero. Poi di colpo cominciano a dondolare sui rami, oscillando a destra e sinistra, e finendo per piegare ogni volta non solo i rami, ma gli interi alberi su cui erano saliti. Cioè, la scena è stranissima, e in realtà, a dirla così, sembra quasi uscita da un cartone animato, ma immaginate vederla dal vivo. Sicuramente farebbe paura. E infatti le figlie dei Belle cominciano ad urlare spaventatissime. Nel frattempo il marito di una di loro entra in casa completamente ignaro di tutto, quindi gli dicono tutto quanto, e lo trascinano verso la finestra per fargli vedere quello che stavano vedendo loro. Ma l'uomo non vede nulla. Cioè, vede solo gli alberi oscillare in modo innaturale, ma non vede la signora e i tre bambini che ci stavano sopra. Assurdo. Cioè, perché lui non vedeva quelle persone mentre le ragazze sì? Tutto decisamente inquietante. Infatti le ragazze si fanno prendere dal panico, escono dalla porta sul retro, e tentano di avvicinarsi con cautela verso quegli alberi. Ma appena arrivano si rendono conto che lì sopra non c'era nessuno. Rimangono lì ferme a fissare la scena, mentre gli alberi si fermano lentamente. Della signora e dei tre bambini non c'era più alcuna traccia. Non ci sono nemmeno le loro impronte, non c'è più nulla. Tutto finisce così di colpo, senza un vero perché. Ma purtroppo per loro le cose strane non tarderanno a tornare. Non tanto tempo dopo, infatti, avviene un altro evento inspiegabile, ancora peggiore dell'ultimo che vi ho raccontato. È una giornata normale, e John Bell sta facendo una passeggiata all'aria aperta con la sua famiglia. È tutto tranquillo, ma ad un certo punto, completamente all'improvviso, John si mette le mani sulla faccia come per proteggersi da qualcosa. Uno dei figli, notando questo comportamento strano, si spaventa. Ma John, poco dopo, abbassa lentamente le mani e scopre il suo viso. Allo sguardo perso e il volto bloccato in un'espressione di shock, con la mascella aperta e gli occhi sgranati. Suo figlio, terrorizzato, si avvicina per vedere se stesse bene, ma John comincia a muoversi in modo innaturale. Si piega al suolo e si contorce in maniera disumana, facendo scricchiolare le ossa ed emettendo suoni raccapriccianti. Era come se si stesse spezzando in due e ogni arto del suo corpo si stesse spostando, come se qualcosa lo stesse stritolando con una violenza allucinante. Il figlio, vedendo questa scena, rimane completamente paralizzato dalla paura, comincia a urlare, chiama suo padre e cerca di farlo tornare vigile, ma John non risponde e ha ancora stampata sul volto quell'espressione di shock, con lo sguardo perso e la bocca spalancata, mentre continua a contorcersi per terra. Il figlio allora tenta, senza successo, di rimetterlo in piedi e mentre prova con tutte le sue forze a sistemare suo padre, ad un certo punto dal nulla parte un urlo talmente forte e acuto che lo sente tutta la contea. Un urlo che sembrava provenire dall'inferno, il suono peggiore che avessero mai sentito. Non è chiaro se l'avesse emesso John oppure no. Fatto sta che dopo questo urlo spaventoso, tutto torna alla normalità. John è ancora vivo, ricomposto, e disteso per terra con tutti gli arti tornati al loro posto. In questo momento di quiete regna un silenzio raggelante. John comincia a piangere e dice a suo figlio questa frase terribile, non mi rimane molto tempo. Il figlio lo aiuta ad alzarsi e i due tornano a casa lentamente, completamente sotto shock. La situazione, come vedete, continua a peggiorare più il tempo passa e non accenna a prendere una svolta positiva. Qualche settimana dopo, infatti, la mattina del 19 dicembre 1820, tutta la famiglia va a fare colazione ma John non scende da camera sua. Alcuni dei familiari vanno da lui per vedere se stesse bene, ma quando entrano in stanza lo trovano ancora sdraiato a letto. Respira ma non si muove e non si riesce a svegliarlo. Allora uno dei familiari corre verso l'armadietto dei medicinali per prendere qualcosa di utile ma non trova niente. Tutte le medicine che tenevano in casa erano sparite, fatta eccezione per una singola boccetta nera, una sorta di fialetta con dentro un liquido nero sconosciuto di cui nessuno in casa era a conoscenza. Nessuno di loro lo aveva messo lì, per cui non sanno cosa sia in quel momento. Allora vanno a chiamare un medico non solo per vedere che cosa avesse John, ma anche per capire cosa fosse quella sorta di liquido. C'è da dire che i medici dell'epoca non è che fossero come quelli di oggi, per cui vi dico già di non stupirvi troppo per quello che sto per dire. Il medico arriva in casa, ma non solo non sa spiegarsi lo stato di salute di John, ma non sa neanche identificare quello strano liquido. Quindi ha la brillante idea di testarlo su uno degli animali della fattoria, così da capire se fosse velenoso oppure no. I Bell gli danno il consenso e lo provano su un povero gatto randaggio che bazzicava da quelle parti. Il gatto lo assaggia e in pochi minuti muore. Capiscono così che si trattava di una sorta di veleno, o comunque di una qualche sostanza che fa male ai gatti. Tuttavia loro ipotizzano che, dato che il gatto era morto, sarebbe stato nocivo anche per gli umani. Comunque nessuno aveva idea della sua provenienza. Tutti giuravano di non averlo mai visto e di non averlo mai messo lì. Specialmente giuravano di non aver tolto tutti i farmaci da casa. Non c'era più niente, era assurdo. La condizione di John comunque non migliora. E il giorno dopo, muore. La cosa strana è che dopo la morte del patriarca della famiglia, i fenomeni paranormali finiscono. O meglio, la maggior parte di questi fenomeni finisce. Alcuni abitanti dicono che giorni dopo la tragedia, hanno visto strane luci fluttuanti in quella fattoria e delle voci in città che provenivano da chissà dove. È probabile che fosse solo suggestione, ma chi può dirlo a sto punto? Intanto la moglie di John, Lucy, rimane in quella casa fino al 1838, fino a quando non muore anche lei. Ad oggi non rimane niente della casa, fatta eccezione per una grotta sotterranea. Questa grotta si trova esattamente sotto il punto in cui un tempo si ergeva la casa dei Bell. E oggi si crede che fosse proprio da lì che venisse il male, che proprio in quella grotta si annidasse l'entità che per anni ha tormentato questa sfortunata famiglia. Ad oggi la grotta è visitabile e c'è persino un sito apposito. Questo però mi porta a pensare ad una speculazione pubblicitaria. Probabilmente lì dentro non c'è nulla e hanno fatto questa grotta collegandoci la storia dei Bell per, insomma, attirare visitatori. Insomma, quella che vi ho raccontato è la versione più accreditata e verosimile della leggenda. Ed è comunque tutto molto assurdo e inspiegabile. Ci sono degli elementi paranormali che sembrano non avere senso, ma non sono nulla in confronto a quello che invece raccontano altre fonti. Quindi a questo punto voglio anche raccontarvi le differenze tra le varie versioni. Perché da molte altre parti online si parla di tutta questa vicenda in maniera molto più spinta, con molte più testimonianze, con molte più episodi paranormali pesanti. Quindi da questo momento vi parlerò degli aspetti meno attendibili di questa storia, ma che comunque certe fonti hanno molto argomentato e enfatizzato. Si dice che dopo la morte di Lucy, la matriarca della famiglia Bell, la storia si è andata avanti. E ci sono anche tanti articoli di giornali dell'epoca che ne parlano, documentando varie voci dei cittadini indignati nel corso degli anni. Molti di questi hanno lamentato davvero tanti fenomeni paranormali in giro per la contea. Alcuni alludono a presunti collegamenti con altre leggende del tempo, mischiando tutto in un modo abbastanza incomprensibile. Comunque questi resoconti e testimonianze arrivano fino al 1894, quindi quasi all'inizio del Novecento. Pensate per quanto tempo queste storie sono state documentate e sono state tramandate. È assurdo. E sono tutte derivate dalla leggenda dei Bell, con tanto di illustrazioni e resoconti molto dettagliati. Eppure io mi soffermerei su dei dettagli che ho trovato online, per quanto riguarda gli avvenimenti che vi ho già raccontato, quindi della famiglia Bell, non di quello che è accaduto dopo. Tralasciamo, fidatevi, tutto quello che è accaduto dopo, se volete ve ne parlerò magari nei commenti, vi faccio un piccolo commento in cui vi racconto tutto ciò che dicono sia accaduto dopo. Comunque vorrei appunto soffermarmi sulle altre versioni che riguardano ciò che è accaduto alla famiglia. Tanto per cominciare, oltre alla signora in nero con i tre bambini e il cane con la testa da coniglio, in casa Bell si dice esserci stato un altro avvistamento. Uno schiavo che lavorava in quella casa, cosa che ho tralasciato apposta, comunque dice di aver visto un grosso cane nero che spesso andava a trovare sua moglie. Probabilmente era lo stesso cane che aveva visto John all'inizio degli eventi paranormali. Ho tralasciato la cosa dello schiavo perché se ve l'avessi detta subito, sono sicuro che avreste odiato la famiglia Bell, però volevo che vi medesimaste in loro. Adesso potete odiarli. Comunque, in queste varie altre versioni della storia, oltre a tutti gli episodi paranormali che vi ho raccontato, pare ce ne siano stati anche altri. Per esempio, si dice che i figli dei Bell abbiano avuto delle esperienze molto inquietanti sempre in camera da letto. Quindi, oltre ai rumori, alle voci e tutte le cose strane, qualcuno di loro si è anche sentito tirare le coperte di notte, un po' come si vede nei film. Si dice anche che una delle figlie, una certa Betsy, sia stata presa di mira da questa entità, più del padre. Si racconta che durante la notte qualcuno, qualche forza misteriosa, le abbia tirato i capelli e l'abbia graffiata in diversi punti. Poi si dice anche che Betsy è stata schiaffeggiata, pizzicata, infilzata con degli spilli, per tutta la sua infanzia, pare aver subito diverse angheri da questa entità. Ma quindi, che cos'è questa entità? Si è mai capito? Cosa fosse? Perché io non ve ne ho parlato. E invece, in queste fonti, non molto accreditate, si ipotizza che fosse una strega. Ma non una strega viva, in carne ed ossa, una sorta di spirito, un'entità ultraterrena, molto particolare, e unica nel suo genere. Qui parte la piega più assurda della storia. Si dice che l'entità, la strega, apparve a qualcuno e cominciò a parlare ad alta voce. Quando le chiesero che cosa volesse, perché fosse lì, e perché continuasse a tormentare la famiglia, lei disse, «Sono lo spirito». Una volta ero molto felice, ma sono stata turbata. Si racconta che, da quel giorno, lo spirito della strega offrì diverse spiegazioni sul motivo per cui fosse lì. Narrò che la sua nascita come spirito fu causato da una sorta di disturbo esoterico, non specificato, e per via di un tumulo funerario dei nativi americani situato sotto le fondamenta della proprietà dei Bell. La strega, poi, sembrava essere molto acculturata sulla chiesa cristiana, conosceva molto bene la Bibbia, e sembrava apprezzare le discussioni religiose, ma non solo. Per divertirsi, questa strega non si limitava solo alla casa dei Bell, ma adorava anche condividere pettegolezzi sulle sue attività con altre famiglie, e a volte faceva visita ad altre case. Un certo Johnston, figlio del famoso James Johnston, quello che scappò da casa dei Bell durante i fenomeni, fece delle domande alla strega. Le chiese qualcosa che nessuno al di fuori della sua famiglia avrebbe mai potuto sapere. Chiese all'entità di dirgli esattamente che cosa avrebbe detto sua nonna olandese se avesse scoperto che i suoi schiavi avevano fatto qualcosa di sbagliato. La strega rispose direttamente usando la voce di sua nonna olandese, e Johnston quindi rimase di sasso. Tutto molto strano e direi anche esagerato, ma come vedete ci sono tantissime testimonianze anche durante gli eventi canonici e più accreditati che vi ho raccontato prima. Si dice infatti che a volte lo spirito mostrava una forma di gentilezza soprattutto nei confronti di Lucy, la moglie di John Bell. La strega dava Lucy frutta fresca e le cantava degli inni. A quanto pare sempre la strega affermò che intendeva uccidere John Bell e sancì questa intenzione attraverso maledizioni, minacce e afflizioni. La storia culmina con quello che sappiamo, ovvero con la morte inspiegabile di John, ma una delle fonti che ho trovato online ci tende a raccontarla così. Sentite, il patriarca Bell venne effettivamente avvelenato dalla strega. Nel 1821 la presunta strega perseguitò ancora la famiglia ma in modo sporadico. Betsy, la figlia che aveva perseguitato D.P.U. rimase ancora sotto l'influenza dell'entità la quale la obbligò ad annullare un suo matrimonio con un tale di nome Joshua Gardner. Successivamente l'entità disse alla famiglia che se ne sarebbe andata ma che sarebbe tornata dopo sette anni, precisamente nel 1828. La strega in quell'anno puntualmente tornò da Lucy e dai suoi figli Richard e Joel con attività simili a quelle della prima volta ma loro scelsero di ignorarla per quanto possibile. Alla fine e in modo semi-definitivo la strega se ne andò per sempre da loro anche se come abbiamo visto altre fonti nel corso degli anni successivi hanno riportato il contrario. C'è proprio ragazzi una cronaca intera arricchita con altre sottostorie di questa presunta strega. La cronaca però si ferma nel 1894 con tanto di disegni in cui si racconta che qualcuno ha addirittura bruciato la strega. Non so ragazzi questa storia purtroppo è andata un po' alla deriva secondo me e spero almeno di avervi reso l'idea della sua complessità e della sua assurdità. Ci tenevo però a portarvi quello che sappiamo per certo l'inizio mentre le ultime cose che vi ho detto prendetele con le pinze. Chissà cosa è vero e cosa non lo è anche nella storia canonica essendo un caso così vecchio dubito che molte cose siano vere eppure anche nella bugia più grande c'è sempre un fondo di verità forse i Bell sono stati davvero perseguitati dalla vicina oppure da un gruppo di persone una fonte dice che la vicina quella strana signora di nome Kate Butts fosse la vera strega o che comunque fosse responsabile di tutto questo si dice che fosse invidiosa nei confronti dei Bell perché avevano la fattoria nel terreno in cui avrebbe voluto trasferirsi lei ma ripeto tutto questo non è confermato e forse non sapremo mai come andarono le cose quindi voi che cosa ne pensate? questa storia vi è piaciuta? cosa c'è di vero secondo voi? fatemi sapere tutto quanto qui sotto intanto ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che presto parleremo di un caso decisamente inquietante veramente mi ha fatto anche abbastanza vomitare si tratta di una vicenda poco conosciuta in Italia ma vi avviso che ci saranno di dettagli davvero raccapriccianti spero quindi che rimarrete nei paraggi per cui se vi ho incuriositi non dimenticate di massacrare il pulsante iscriviti e adesso parlo con te si proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ricordo infine di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao 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 ciao